Un grande momento di confronto tra i lavoratori delle poste in tutta la Campania si è svolto presso la sede della SLC CGL a Via Bracco a Napoli. La partecipazione è stata massiccia e ha confermato la voglia di confrontarsi sui temi del lavoro dopo i due anni di pandemia. Ascoltiamo Ilaria D'Ambrosio, segretaria regionale SLC CGL Campania. Abbiamo appunto in maniera dettagliata spiegato quali sono le carenze che noi abbiamo nel settore poste. È una carenza di organico significativa sulla quale la SLC deve e può intervenire. Quindi occupazione per la nostra regione e sono certa che da questo momento in poi con l'impegno di tutti in maniera coesa e determinata raggiungeremo questo obiettivo. L'appuntamento è stato anche un modo per arrivare al meglio alla manifestazione nazionale organizzata da CGL il 18 giugno a Piazza del Popolo a Roma. Ai nostri microfoni Nicola Di Ceglie, segretario generale SLC CGL nazionale. Oggi è stata sancita la rinascita dell'SLC in Campania e quindi di ritornare sui posti di lavoro a difesa dei lavoratori e delle lavoratrici iscritte all'SLC, sia delle poste ma di tutti i settori che noi tuteliamo. Pace, lavoro, democrazia e giustizia sociale, questo è il titolo dell'incontro promosso da Gianluca Daniele, segretario generale SLC CGL Napoli e da Rocco Ferullo, segretario generale SLC CGL Campania. Ascoltiamo Gianluca Daniele. È emerso un dato che secondo me è fondamentale, cioè che noi dobbiamo impegnarci come organizzazione sindacale e in generale come CGL ma in questo settore specifico per le telecomunicazioni, le poste, per alcuni settori che anche dal punto di vista salariale hanno avuto grandissimi problemi in questi anni con la pandemia, adesso la guerra, la crisi economica e l'obiettivo fondamentale deve essere quello di restituire un valore al salario. Grazie a tutti.